Il primo ad entrare su ring in questa puntata di SmackDown è il campione mondiale Cody Rhodes, stranamente non con un vestito elegante, bensì con una canottiera. L'American Nightmare ha salutato Terence Crawford, pugile presente a bordo ring, ha iniziato parlando di Randy Orton e dell'attacco subito settimana scorsa, dicendo che Randy, oltre ad essere un suo amico, è anche stato un mentore per lui, e non sarebbe qui senza il suo aiuto. Quindi vuole vendicarlo perché ha subito un grave intervento alla schiena e nonostante ciò la Bloodline l'ha comunque spappolato con una tripla powerbomb sul tavolo. Dunque il campione ha guardato dritto negli occhi, in maniera fittizia ovviamente attraverso la telecamera, solo si coa, ricordando di quando a Vrestelmania 39 gli disse che non era pronto, e l'attuale tribal chief si vendicò costandogli il titolo in quell'edizione di Vrestelmania. Ma è costi in teoria Griswold Waller ad interrompere Cody, che è stato accusato dagli ex campioni di coppia, di essere il motivo dell'attacco subito da parte di Jacob Fatou settimana scorsa. Cody ha comunque ricordato a Teori che Waller sta erroneamente colpendo Teori da diverse settimane, e lo ha anche mandato in pasto al membro della Bloodline. E allora l'australiano ha risposto dicendo che se Randy Orton è infortunato e KO dopo settimana scorsa è colpa proprio di Cody Rhodes. Gli l'hanno poi attaccato il campione che è andato in difficoltà per lo svantaggio numerico, ma Terence Crawford, il pugile già citato prima, ha passato una sedia a Cody Rhodes che si è vendicato. Allora, ma l'attacco è stato incredibile perché Griswold Waller si è palesemente piegato guardando Cody e dicendo dai dai picchiami forza, colpiscimi, mentre Teori ha preso al volo la sedia e ha aspettato tipo una settimana lavorativa per il disaster kick di Cody, poteva reagire 47 volte e non l'ha fatto. Devo dire che non è andato benissimo questo segmento iniziale e chiaramente serve a setappare il main event della serata. Carmelo Ace dal parrucchiere dice che è pronto a sfidare Andrade. Nick Aldis dice a Cody Rhodes che sfiderà i DIY, eh sì DIY, gli out-down down-down. Nick Aldis dice a Cody Rhodes che sfiderà gli etown down-down nel main event, ma gli serve un partner, quindi che se lo cerchi, chi sarà mai? Andrade contro Carmelo Ace, miglior match della serata, assolutamente divertente vittoria per Andrade dopo una decina di minuti, grande performance di tutte e due che, relegati nel mid-carding, devono elevarsi e cercare di uscire da questa palude in cui sono finiti, perché Andrade, nonostante la vittoria, lasciatemelo dire, ha zero aura. Il tuo livello di combattimento è 5, sei un po' scarso. Bo è tornato, lo gestiscono come un personaggio importante, ma non attacca, non riesco a interessarmi a lui. Carmelo Ace, invece, dopo una buona parentesi iniziale, sembra, bo, diventato una specie di jobber senza una strada precisa, hanno dimostrato comunque di avere un super talento perché il pubblico gli è andato molto dietro, era molto ma molto divertito, la contesa non ha avuto chissà quanta psicologia, anche perché era difficile costruircela dietro, ma è stata bella da guardare, un bel match di wrestling, punto. Anche se avrei lasciato più spazio di manovra a him, invece Andrade ha dominato per gran parte della contesa. E speriamo che questi due riescano a trovare il loro percorso, perché per adesso, insomma, intervista doppia per Bayley e Naya Jax. La number one contender ha detto che a Summerslam strapperà il titolo dalla campionessa e che la batterà come un vecchio cane malato, la Madonna. Bayley ha risposto che Naya non è mai cambiata in questi dieci anni da quando la conosce, è la stessa senza cuore che nel 2017 la distrusse costringendola a saltare quell'edizione di Summerslam e cambiandole per sempre la carriera. Naya ha risposto che è contenta di essere la Queen of the Ring e la regina della divisione femminile, quindi a Summerslam strapperà quella cintura. Ma l'hai già detto prima, Naya, chi se ne frega? Bayley ha risposto che lei è cambiata dal 2017, a differenza della Jax, e quindi se ne andrà con la cintura ancora in vita dopo l'evento più importante dell'estate. Perché non c'è nulla che la number one contender possa fare. E Naya ha detto, ok abbiamo finito, allora me ne vado. Uno scambio abbastanza frivolo, senza chissà quante emozioni. Hanno detto cose ovvie, cioè Naya ha detto, vincere la cintura, e Bayley ha detto, rimarrò campionessa. A parte qualche attacco personale che ha toccato un po' la Jax per quanto riguarda la sua capacità sul ring. L'ha detto semplicemente, eri e sei pericolosa perché fai schifo. No, Naya è migliorata molto. Naya è migliorata molto, devo ammetterlo. Bianca Belair e Jade Cargill vogliono un rematch per i titoli di coppia. C'erano anche Chelsea Green e Piper Neven fuori dall'ufficio di Nick Alvis. Chelsea Green contro Bianca Belair. Un minuto di match, calcio volante di Chelsea Green, German suplex di Bianca Belair, roll up di Chelsea Green, Belair lo ribalta, finito il match. Ma te cachi nel puzzo? Possiamo andare oltre? Serve qualcos'altro? Davvero? Dopo l'incontro Alba Fire e Isla Dawn si sono connesse dal Titantron dicendo che non concederanno una shot a Jade Cargill e Bianca Belair. O meglio, la Dawn ha detto, vedremo, ridendo in maniera abbastanza sarcastica. Niente, sti titoli sono veramente utili quanto una bicicletta senza ruote. Firma del contratto per il match tra L. Knight e Logan Paul. Aldis dice che serve solo la firma del campione. E intanto ci viene ricordato che Logan Paul è campione da 250 giorni e più e ha difeso il titolo due volte. Ottimo. L. Knight ha puntualizzato subito che ogni volta che i due si sono trovati faccia a faccia, Logan Paul è stato cucinato dalla Megastar. Gli ha dato poi un suggerimento, come fatto un anno fa, su dove infilare le bottiglie dei Prime Energy Drink, ricordandogli che è stato a casa sua, che lo ha battuto nel match di qualificazione per Money in the Bank e lo ha inseguito per tutto il mondo per ottenere questa title shot. Paul ha risposto, ok, a te serve questo match, io non ne ho bisogno. Tutta l'esistenza di L. Knight è definita da quanto fatto su quel ring. E spoiler, in vent'anni non ha combinato nulla. Mentre lui costruisce business, intervista presidenti degli Stati Uniti e ha una famiglia, L. Knight è solo un Jimbrow che si spruzza la bronzatura spray addosso mentre cerca di imitare The Rock. Posso dire che non ha tutti i torti? No. La Megastar ha quindi risposto come se non avessi mai sentito questo insulto e poi ha detto che suo fratello ha il coraggio di salire sul ring contro Mike Tyson mentre Logan Paul non ha il coraggio di sfidare L. Knight per il titolo. Cioè, in realtà non ha detto il coraggio, ha detto le palle, ma dettagli. Vabbè, alla fine il campione ha firmato il contratto, ha fatto per andarsene, ha attaccato prendendo la sprovvista L. Knight, che però ha reagito, ha tentato di connettere la BFT, ma Paul è riuscito a fuggire a gambe elevate. Dopo un video dedicato alla Miss Money in the Bank Tiffany Stratton, dove zoomano praticamente sul suo corpo in slow motion, la Barbie si presenta per il suo match, ma prima ci fanno vedere L. Knight e Santos Escobar, mi ero dimenticato completamente della sua esistenza, che nel backstage si sfidano ad un match perché Santos ha detto che nel match di qualificazione per il Money in the Bank non è stato pinnato lui, ma Logan Paul. Mi fa ridere questa cosa perché comunque hai perso Santos, ma che decisione è? Michin contro Tiffany Stratton, match durato meno di dieci minuti, vinto da Michin ovviamente, con quello che potrei definire come il colpo più letale della storia del wrestling, ovvero il roll-up della morte, perché nel finale Bayley si è presentata, è stata attaccata a Nanaya Jax, ma ha evitato l'offensiva della number one contender, l'ha schiantata contro le barricate, poi l'ha colpita con la valigetta e ha iniziato a distruggerla, cioè ha picchiato la valigetta Bayley. Qualcuno l'ha informata che l'importante è il contratto e non l'oggetto in sé? Probabilmente no, comunque la sbatteva contro i gradoni, la calpestava, Tiffany si è distratta e Michin ha connesso, come detto prima, la culla che le ha consegnato la vittoria, una vittoria che mi sorprende, mi stupisce. E dopo il match Tiffany si è riappropriata della valigetta tutta spappolata, boh. Solo si coa nel backstage si chiede chi voglia disrespectare il tribal chief facendo coppia con Cody Rhodes stanotte, ma chi lo sa. Chiunque esso sia non ha visto ciò che ha fatto a Randy Orton settimana scorsa, forse conviene che diventi un handicap match, perché chiunque farà coppia con Cody ne pagherà le conseguenze. Prima parlando di Andrade ho nominato le superstars senza aura. Beh, solo si coa, mi sa che anche tu, no. Cody Rhodes cammina nel backstage ed ecco il suo partner misterioso, Roman Reigns, The Rock, Chavo Guerrero, no. Tenetevi forte, Kevin Owens, davvero, grazie per la sorpresa, non me lo sarei mai aspettato. Ma vaffan... Main event di serata, 8 down down under contro Cody Rhodes e Kevin Owens, vittoria per i face abbastanza agevoli dopo una decina di minuti, perché è servita solo la Cody Cutter su Theory, la stunner di Owens su Grayson Waller, Crossroads su Austin Theory di nuovo e schienamento finale. Vittoria easy per i babyface, buon match di coppia, niente di eccellente, poi che Theory e Waller abbiano avuto un po' di spazio nel match è ovvio perché topiamo far credere che possano vincere contro Cody Rhodes e Kevin Owens. L'importante è quello che è accaduto dopo il match, perché la bloodline è arrivata e ovviamente è partita la rissa, la rissa con l'ovvia superiorità numerica della Stable Hill, che ha fatto emergere ancora una volta Jacob Fatou come la minaccia numero uno. Prima ha schiantato Cody sui gradoni, poi ha connesso Superkick su Owens. Il Pride Fighter è tornato sul ring e si è preso le culate di Fatou più e più volte, mentre Tama, Tonga e solo Sikoa costringevano Cody Rhodes a guardare questa scena. Tripla power bomba i danni del campione sul tavolo dei commentatori, come fatto a Randy Orton settimana scorsa, quindi Cody Rhodes prenderà del tempo, se ne andrà dagli show, lo rivedremo solo a SummerSlam, poi l'erano registrato la puntata di settimana scorsa dopo questa puntata, in realtà non so se ci sia stato Cody Rhodes, forse no, boh devo ancora leggermi i risultati. E alla fine la sedia è finita a far da collana Kevin Owens che è stato lanciato contro il paletto e decapitato con la bloodline che ha chiuso la puntata con l'indice alzato verso il cielo. Mi sembra qualcosa di già visto, tipo nell'ultimo mese ogni smackdown è andato così? Una roba del genere. Purtroppo, come settimana scorsa, la puntata non è stata nulla di che, anzi, forse è stata addirittura peggio di settimana scorsa perché è stata sostanzialmente un replay di quanto abbiamo già visto. Cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia. I match, a parte Carmelo Ace contro Andrade, non sono stati nulla di che, bello lo scambio verbale tra Logan Paul e The Lay Knight, ma già lo sapevamo, e poco altro, davvero poco altro, piuttosto deludente questo show blu. E siamo vicini a Summerslam, mi aspetto molto di più, invece non sta succedendo nulla di significativo. Fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo episodio di Smackdown, non posso fra l'altro che darvi appuntamento a martedì con l'analisi di Raw e a domani o dopodomani con qualche short, e salutarvi con il solito e calorosissimo. Ciao. Ciao.